Da lunedì 10 maggio saranno chiuse via Brenta e via Detoni nel territorio di Campodarsego per permettere la realizzazione delle rifiniture finali della rotonda che interseca le due vie, realizzazione del tappeto finale e poi apertura della strada. Sarà apposta tutta la segnaletica per le deviazioni sul posto. Il Comune invita a prestare la massima attenzione per la presenza in strada delle macchine operatrici e degli operai. Grazie a tutti.